Se in questo caso state avendo così il problema riguardo al Fortnite Crash Report ovviamente sto riscontrando questo problema di Fortnite Crash Report che Fortnite si è bloccato quindi è possibile poi chiedere il supporto a Epic Games e loro possono risolvere subito. Io ogni volta che avvio Fortnite una volta al giorno mi crasha tre volte e poi dopo riprende così funziona perfettamente senza nessun problema quindi in questo caso anche se andiamo sull'assistenza di Epic Games tipo come posso risolvere errori, arresti anomali e rallentamenti di Fortnite su PC scrivi qua sopra Fortnite Crash Report oppure semplicemente scrivi qua sopra su Contattaci quindi scendi fino a giù fino a trovare così contatti. Mi raccomando assicurati anche di fare uno screenshot, una foto a questo Crash Reporter di Fortnite, glielo mandiamo direttamente a quelli di Epic Games, glielo proprio mandiamo, glielo spediamo questo errore ed eccoci qua. Ovviamente in passato ho anche chiesto assistenza per l'easy anti-cheat, problemi di crashato in airport e riguarda anche un problema con la VPN in caso tipo per esempio se stai usando una VPN quindi ti possono anche cacciare dalla partita di Fortnite e farti anche uscire quel messaggio tipo che l'account è stato sospeso. Quindi andiamo così a mettere il nostro nome, email, piattaforma facoltativa però noi andremo a mettere computer, puoi anche mettere PlayStation, Fortnite, motivo per cui ci stai contattando, account Epic, connessione, prestazione, codici di errore ed escrivi qui il tuo problema. Ogni volta che apro Fortnite, crasho tre volte mi esce la scritta Crash Reporter di Fortnite e gli mando anche una foto, seleziono così il file desktop e vado così a prendere la foto ed eccola qua e gliela mando. Poi, a posto di aspettare così la risposta andremo poi a fare delle modifiche nella cartella del gioco, quindi invia una richiesta per email. La tua richiesta è stata inviata e basta. Una volta fatto aspettiamo, quindi adesso andiamo direttamente sulla cartella, quindi vai a scrivere qua sopra e segui. Scrivi qua per cento, app data per cento e facciamo ok. Scendi fino a giù, fino a trovare ok, andiamo in app data local. Scendi fino a giù, fino a trovare così, la cartella di Fortnite. Quindi Fortnite game, save, crashes ed eccola qua. Queste qua sono le tre cartelle, come puoi vedere ogni volta che crashi da Fortnite ti può uscire la cartella con tutti i codici di errore dentro e capire anche qual è il problema. Come puoi vedere ci sono tre cartelle, ho crashato tre volte. Crash context, Fortnite game, documento di testo, questi sono tutti i processi di Fortnite durante il crash, questo. Engine plugin, mounting, engine plugin, online, web, tutte queste cose qua. Vado a cancellare queste tre cartelle e svuoto anche il cestino. Se crashi sempre su Fortnite ti consiglio anche di fare una verifica nella sua cartella. Quindi vai direttamente nella libreria del gioco, vai sui tre puntini dove sta Fortnite e fai, gestisci e fai la verifica. Io ogni volta devo per forza risolvere in questo modo. Tre puntini, gestisci. Opzione di lancio, ti consiglio anche di avviare Fortnite nella modalità di rendering DirectX11. Fai così la verifica, ma prima di fare la verifica vai sui tre puntini e vai su opzioni. Assicurati di installare e prescarica le risorse trasmesse. Questa rimuovila, questa rimuovila e se giochi a salva il mondo lo puoi rimanere. La facciamo applica, tre puntini, gestisci, facciamo la verifica dei file sul gioco. Poi un altro consiglio che vi posso dare quando entrate sul gioco e c'è connessione in corso e quando state nella lobby ti consiglio di schiacciare il tasto ALT più INVIO. Ti consiglio di schiacciare questi due tasto sulla tastiera ALT più INVIO per metterlo in finestra. E poi metti avvia, quindi cerca così una partita e mentre si sta connettendo al server della partita e stai direttamente in lì nella zona dove stai aspettando l'autobus, rimetti di nuovo lo schermo intero, fai ALT più INVIO. E poi una volta fatto non ti resta che avviare il gioco. Quindi come ho detto avviamo Fortnite direttamente nella libreria di Epic Games, non aprirlo mai sul desktop. Ed eccolo qua, quando state nella lobby schiacciate il tasto ALT più INVIO. Poi andate così a trovare una partita, fate gioca, poi quando state nella zona dell'autobus puoi rimettere di nuovo ALT più INVIO per metterlo a schermo intero. Ora vai direttamente su impostazioni qua, scendi fino a giù fino a trovare post processing ridotto, effetti ridotto, distanza visuale puoi metterlo epico o lontano, texture elevato, riflessi no, dimensioni globale no, ombre no e basta. In vita DLSS se lo tieni metti prestazione, in vita DLSS e basta. DirectX 11 finestra a schermo intero. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!